Da lunedì scorso la compagnia Carabinieri di Fano ha un nuovo comandante. Il capitano Massimiliano Papale, abruzzese di nascita, 41 anni, sposato due figli, ha assunto l'incarico subentrando al maggiore Falcucci, insediatosi a sua volta alla compagnia di Legnano. Papale proviene dall'Aquila, dove era al comando del nucleo operativo radiomobile e dove si è distinto per una serie di brillanti operazioni come terra di mezzo e takeaway sul fronte dello spaccio di stupefacenti o l'operazione Riders sui furti ai danni dei Bancomat. Oggi nella caserma di Fano incontro conoscitivo con gli organi di stampa nel quale il nuovo comandante ha tenuto a sottolineare gli aspetti di grande spirito di squadra che ha trovato e l'egregio lavoro di amalgama operato dal suo predecessore, che lo aiuteranno certamente in questa fase di inserimento, supportato anche dagli altri ufficiali del corpo, come il capitano Luigi Grella e Antonino Barrasso. Ho girato un po' l'Italia, dice Papale, mi sento di dire che per diversi aspetti qui a Fano siete fortunati per una realtà ed un tessuto sociale sani. Questo non vuol dire però che l'attenzione non deve essere massima anche in contesti tranquilli, dove si può insidiare il fatto violento e criminoso. Ed il pensiero va subito all'efferato omicidio Grilli di San Lorenzo in campo. Opera erodice, papale nel segno della continuità e sul solco, tracciato dal maggiore Falcucci. È una città davvero bella e incantevole, sono molto contento di essere arrivato. Ecco, l'impegno sarà totale per fare altrettanto bene, per mantenere un livello di ordine e sicurezza pubblica elevato, sia sotto il profilo della prevenzione che della repressione. Sicuramente la droga è un motivo ricorrente, un po' in tutte le realtà nostre italiane, però ovviamente senza tralasciare altri ambiti come i delitti contro il patrimonio, quindi parlo dei furti e i delitti contro la persona che comunque avvengono e quindi meritano il rispetto al pari degli altri. L'invito è sempre la via maestra di chiamare il 112. Il cittadino spesso ha modo di verificare e di constatare elementi sospetti o situazioni poco conformi al contesto in cui vive. Quindi l'invito è di contattarci subito per attivarci noi repentinamente per avere da subito un elemento informativo su cui lavorare. Per quanti fuori noi potremmo essere, conclude il comandante, gli stimoli e gli input ce li aspettiamo dai cittadini. Con il loro i nostri occhi diventano centinaia. Solo chi vive quotidianamente il luogo sa valutare e segnalare situazioni potenzialmente anomale sulle quali noi poi possiamo intervenire con efficacia.